Il campo del Golf Club Varese ha un punteggio scolpito nella pietra. 66 colpi, meno 6 sotto al par. Oggi ci ha provato Matteo Manassetto a battere il record del suo maestro Binaghe, ma non ci è riuscito. Hai fatto tutto il possibile. Beh certo, ci ho provato, sono arrivato molto vicino. Purtroppo adesso siamo in tanti a avere questo meno 6, quindi mi toccherà tornare e battere. Ci ho provato, ho provato due pattine nelle ultime due bufie, però è stata una bellissima giornata. Spero tutti ci siamo divertiti. Grazie! 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 Grazie!